Sono state selezionate a Bolognano, presso l'azienda Vitivinicola Zaccagnini, le terne finaliste della 17esima edizione del premio nazionale Giuseppe Prisco alla correttezza e lealtà sportiva. Il presidente del comitato organizzatore, Marcello Zaccagnini, unitamente alla giuria presieduta da Sergio Zavoli e dai giornalisti Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta e Ilaria D'Amico, hanno deciso di selezionare come finalisti Giuseppe Marotta dell'Inter, Francesco Colombarini della SPAL e Fabio Paratici della Juventus per la categoria Dirigenti di Società. Per la categoria Allenatori, selezionati Roberto De Zerbi del Sassuolo, Leonardo Semplici della SPAL e Roberto D'Aversa del Parma. Infine, per quanto riguarda la categoria Calciatori, i finalisti sono Cullidu Cullibali del Napoli, Federico Chiesa, talentino della Fiorentina e Zapata, bomber dell'Atalanta. La stessa giuria poi ha selezionato la Terna, da cui uscirà il nome del vincitore del quindicesimo premio speciale di giornalismo Nando Martellini, scomparso nel 2004 e membro della giuria del premio. I nomi sono Maurizio Compagnoni, voce di Sky Sport, Alberto Rimedio di Rai Sport e Donatella Scarnati, sempre di Rai Sport. Il premio speciale della giuria invece andrà al cavaliere Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter. L'iniziativa, come ogni anno, si propone di attribuire un premio a chi, maggiormente, mantenendo uno stile di comportamento responsabile, ha saputo accettare sportivamente la sconfitta e sdrammatizzare gli episodi controversi. I vincitori, proclamati nelle prossime settimane, saranno premiati con un'opera del maestro Mimmo Paladino, lunedì 13 maggio alle ore 11, presso il Teatro Marruccino di Chieti.